Ecco Zaratustra come mangia, si soffiano con giordi, il piccolo Zaratustra se ne sbatte le palle e continua a mangiare, si, Giordano circospetto, guardiamo Giordano, dice ma di cacchio è questo marmocchio e Zaratustra se ne sbatte e mangia, Zaratustra gattolino mal pelo, lui è un marmocchio piccolissimo in confronto a Giordano e Ibazia, li fa scappare, lì rincorre e li fa scappare, ecco qua arriva Ibazia col pelo alzato, Ibazia lo accetta, vediamo, così c'è un Tarano, Ibazia, il piccolo Zaratustra, guarda, è pazzo, va a fare la dispettosa, guarda, si spaventa, oh è piccolo ma mangia un maialino, un maialino selvatico, il fondo gli sta vedendo, un saluto dal piccolo Zaratustra, Gattolino mal pelo, ciao!